ciao allora oggi vi voglio parlare di questo siero viso della Olaz si chiama total effect 7 in 1 e siero levigante istantaneo allora questo siero che sinceramente non gli avevo dato un centesimo e l'ho provato perché avevo trovato un buono sconto molto vantaggioso perché è uno sconto di 10 euro quasi quindi l'ho pagato una cavolata la confezione è un 50 ml che per essere un siero viso è grande il prezzo non ve lo so dire perché è stato proprio tagliato comunque sia avviene sui 12 euro qualcosa del genere in negozio promette di sette segni del tempo quindi di essere contro la riduzione contro no di ridurre le prime rughe uniformare il colorito ridurre i pori idratare profondamente dare una leggera esfoliazione dare luminosità e un effetto mini lifting sinceramente di tutte queste cose non è che ho visto questi miracoli comunque sia la formula in siero mi piace perché è molto leggera si stende bene sul viso è bella idratante ma assorbe immediatamente sulla mia pelle mista durante il giorno non va a lucidarla oppure a rendere più lucida la zona t è perfetta fino a sera soprattutto quando vado ad applicarla e poi dopo e mi trucco sopra quindi perfetto tutti questi sette effetti miracolosi io non li ho visti ma comunque sia trovo che sia valido come siero da prendere in offerta perché comunque si trova nei supermercati a un prezzo accessibile l'olats è un marchio che davvero è una vita che è che in commercio tutti la conoscono la quantità è incredibile perché normalmente si è riviso su un 30 ml questo un 50 quindi il prezzo che ha è buono rispetto anche alla quantità e poi ha una profumazione che non mi ricordo ha una profumazione abbastanza e forte ma non è persistente sulla pelle cosa molto importante non la irrita e che dire a me è piaciuto sicuramente da acquistare in offerta non a prezzo pieno ma comunque sia se cercate un siero per il viso per il giorno e se come me avete la pelle mista o grassa o comunque vi truccate prodotti più corposi non hanno senso perché andiamo a mettere prodotto su prodotto per niente questo ve lo consiglio questo è il total effect 7 in 1 della olats si chiama siero levigante istantaneo e quindi fatemi sapere se lo avete provato come vi siete trovate e come sempre io vi do appuntamento alla prossima accensione beauty se ti è piaciuto il video mettimi un like iscriviti al canale e mi raccomando la campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video e non ti perderai le prossime accensioni alla prossima ciao